Sei sulla Converse? Iee! Ragazzi, questo è trendy, eh? Ma che trendy? Ma i calzini li hai cambiati da domenica? Sono 20 paia uguali. C'ho un po' l'ai, c'ho calzini di gallo, c'ho un po' l'ai. Bene, amiche ed amici, non ascoltate quella biondona che è dietro la telecamera che fa così solo perché non gli do il cinci. Nadia, ho guardato su internet e si scrive proprio così aloe, riferito alla lavanderia dalla quale abbiamo fatto un servizio sui prodotti lavati con l'aloe. Si scrive così, credevo che ci fosse qualche H qua e là, ma allora è veramente un prodotto aretino, è certo. Lucia, su San Giosganappa, il nuovo rettore dei Giallo Cremisi, cioè di Porta San Lorentino, Porta del Foro, il rettore è sceso a noi, il rettore è sceso a noi. Dario, così mi piace, bravo Franceschi, infatti restituire la chimera da quei fiorentini di merda, quanto fine, cinque anni di università anch'io ce l'ho fatta, ma mi stanno sul cazzo a vita. Vedi Dario, se ti avessero dato la passera a molte fiorentine come a suo tempo fecero a me, ti sarebbero meno antipati. Va avanti! Botolo un calzato! Aloe, ah, questa me la godo, sull'aloe. Aloe, lavate... Auguri! Eh? Auguri! Aloe, lavatevi il cazzo. Tutte e due, che ve puzza de cascio favettone stagionato ben bene, molto fine. Io bisogna propongare al Toci e a Rotary la sera, a Lions. Marco, a retini che pisciano in via Vittorio Veneto. Perché? Ah, del servizio. Ma la memoria proprio mi ha... Va bene, va bene. Come fanno la retina a pisciare se in quel parcheggio non c'è più un aretino? Anzi, un italiano, comunque ha ragione, sono tutti estra. Luana, pipì nel parcheggio. Giusto, a me viene da vomitare solo a camminarci, infatti cambio strada. Rosandra, sosteno, ancora una volta non esiste, clamoroso, simpatici, mi piace, attenti a Pupo. Grazie, Rosandra. Rosa, il caffè me lo prenderei con Pupo, perché Rosa chiama Adana Napoli. Silvia, sei un grande saggio sul concime organico. A me. Una presa di culo, mi sa. Laura, Leonardo, sei unico, bravo, ogni tanto, diciamocelo. Sei unico, bravo, ogni tanto, diciamocelo. Senti, ma uno che è esperto in concime organico sarebbe esperto di che? No, perché ho scritto che molti, che quando si muore si diventa tutti concime organico, molti però si avvantaggiano vivendo da pezzi di merda. Era una mia, un mio saggio. E sull'ecosostenibilità invece, botolo in calzato, eco, ah l'eco, capito? Va a fanculo, ulo, ulo, ulo. C'è l'eco, molto fine. Gianni, considerazioni. Disse la supposta al missile, beato te che vai in cielo. Si può dire il cognome perché è un personaggio pubblico. Gianni, Giannini. Il noto comico, Luana, gatti abbandonati ad Arezzo, portali a casa del sindaco, visto che aveva promesso che nel suo mandato avrebbe fatto il canile e il gattile. Io proverei a chiuderci, lo vediamo quanto regge. Ora, come faccio a portare i gatti dal sindaco che è un topo in quel modo? Mi savento subito. È un topo, perché Arezzo dice, sei un topo. Gatti abbandonati, ancora Luciana. Io metterei al muro chi li prende, li abbandona, bastardi. La Luciana è sempre quella risolutiva, se è quella che dico io. Milli, buona domenica a tutto il popolo di Chiaro e Tondo. Le conquiste marittime di Jacopino. Dice Alessandra, un caro buongiorno, un abbraccio con immutato affetto al nostro caro Jacopo, che come tutte le domeniche è qui con noi. C'è sempre con noi, ma la domenica c'è il suo filmato. Grazie Leo, Chiaro e Tondo, Artemisia, Katia a Chiaro e Tondo. Mille grazie di esistere. Manola, fantastica memoria, ottima recitazione, altro che ruspante. Questo mette in riga diversi bottoni del teatro arettino. Sono d'accordo Manola. Grande Jacopo dice, Rosandra, seguo il canale di Chiaro e Tondo da poco. Mi riferisco ad Alberto. Seguo il canale di Chiaro e Tondo da poco, ma non ho potuto fare a meno di vedere alcuni video in cui veniva intervistato questo ragazzo, veramente simpatico, di una comicità spontanea meravigliosa. Jacopo deve essere stato, come si dice ad Arezzo, un citto d'oro. Mi basta vedere filmati le sue poesie per farmi tornare il sorriso. Un grande. Grazie Alberto. Noi ce lo ricordiamo tutti i giorni, ma ogni tanto sentire che qualcun altro lo apprezza ci fa piacere. Saluto il grande Monni, dice Carlo con un sorriso, perché pubblica un articolo sulla morte di Carlo Monni. Ci vedremo tra non molto. Fammi toccare i coglioni, perché è bene che vi vediate tra di voi. Ciao Leonardo, è un piacere di sentirci. È passato un bel po' di tempo. Da c'era una volta Leonardo Franceschi e l'Allegra Compagnia. Ti ricordi? Io, sinceramente. Tutti morti. Può darsi, io non so manco chi sono questi. Complimenti per il tuo lavoro. Speriamo di rivederci presto, nell'hand di qua, mi auguro. E lui si chiama Alberto. Alberto, io sinceramente non mi ricordo di questa. Ma te non ti ricordi manco quello che ha mangiato stamani, vai. Ma ieri sera te l'ho dato un colpetto? Perché non mi ricordo. Ma va avanti. La scomparsa di Carlo Monni. Ci mancherai, grande Carlo, tutti noi ti ricorderemo. Dice Pietro. Iolanda, salve Leonardo, una buona giornata. Grazie, Iolanda. Ah, mi ha scritto in privato riguardo Nicchi Giustini, riguardo a Carlo Monni, perché Carlo Monni è stato interprete di un corto dalla regia della produzione di Nicchi Giustini. Che saluto. Beatrice. Ciao, grande Steno. Te la leggo da Steno. Mi piace pareggio il tuo intervento settimanale. Attenti a Pupo. Leottaverime. Sei fortissimo. Un grandissimo saluto dalla Germania. Ah, dalla Germania. Beatrice. Deve essere una fan di Pupo, perché io in Germania non ho lasciato tracce. Sicuro? Non è vero. Può darsi qualche gora, l'ho fatta anche lì. E Leo, 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 in Russia, dice, è Leo, ho visto per il corso, tovi, Leo, l'ho visto. L'ho visto, penso. L'ho visto, non si scrive con l'H, prima di tutto, perché l'ho con l'accento così, caro Russia. Ma lo scrive Naretino sulla pittura. Ah, l'ho visto per il corso tutto billino, elegantino, tutto colorato, come un gallo lecceso. Guardate, che sarà un gallo lecceso. E puo è ranco tutto nero, come un che è stato al sole, me sa che però lui un ne zampa, va al mare. Mica coglione, no. Ma se siamo stati a cogliere i pomodori tutta la settimana, via, non scherzare, Russia. Ora mi sto ripartendo, non vedo l'ora di andare a lavorare. Dove andrà a finire l'Arezzo Calcio? Luana dice, al cesso, intanto nella merda più di così. E l'Yoga invece dice, sempre sull'Arezzo Calcio, peccato che l'ara crematoria produca diossina, ennesima tafanata del comune fanfadringolo. Altrimenti sarebbe la soluzione, cioè incenerire l'Arezzo Calcio. Mara Scini. Ma che senti a guardare l'affari tua mentre parli così con l'ascoltatore? Mara, le stanze dell'angelo. Che divertimento, quanta tenerezza, rivedere i film con Jacopo. Toyota, Toyota Bride, Botolo, Toy, Toyo, da Toyota, come dici? Toyota Ibride. Toyota Ibride. Me ne trovi una che vado a cambiarla così la compro subito. No, non l'hai letto bene, ma si è sciacato. Me ne trovi una che vada a cambiarla. Ah, eccoci, buongiorno. No, ma sai perché mi sono emozionato? Perché te l'ha affari qua? No, perché mi è arrivato un messaggio di Carla Bruni. Sì, va beh, dai, allora, falla finita. T'aspetto stasera col Misarco, sono da presentate. Senti, è geloso, basta. Sono nero, te sei gelosa, è come la tutopa.